La ASL 1 ha completato la riorganizzazione del percorso senologico nell'ospedale di città di Castello. Dal mese di ottobre, grazie al contributo dell'Associazione Alto Tevere contro il cancro, sarà inaugurato un apparecchio mammografico digitale di ultima generazione. Il presidio ospedaliero ha anche apportato miglioramenti nell'organizzazione con due importanti obiettivi, liste di attesa sempre più contenute e innalzamento del livello della qualità assistenziale per garantire un miglioramento dell'accoglienza è stato messo a disposizione un locale adibito a sala d'attesa. Per facilitare il trattamento delle pazienti è inoltre disponibile una sala per gli esami mammografici adiacente a quella per gli esami ecografici. Si è proceduto alla centralizzazione delle prestazioni di mineralometria ossea presso l'unico centro regionale per il trattamento di osteoporosi e malattie metaboliche dell'osso situato all'ospedale di Umbertide. In questo modo è stato possibile rimuovere l'apparecchio di mineralometria ossea che era collocato all'interno dell'unità operativa di senologia diagnostica per evitare la sovrapposizione di percorsi assistenziali differenti e favorire una migliore accoglienza nel percorso senologico. Le prenotazioni per i controlli successivi alla prima visita, se richiesti dallo specialista, vengono prenotate direttamente dal servizio per rendere più facile la continuità delle cure. L'azienda ha potenziato l'impegno del gruppo multidisciplinare oncologico che consente una gestione più efficace dei singoli casi. Tutti questi interventi hanno lo scopo di migliorare il livello di qualità assistenziale e di contenere le liste di attesa che si sono infatti stabilizzate sui tempi previsti dal piano regionale. Ciò significa che anche nell'ambito della patologia della mammella i bisogni assistenziali trovano una tempestiva ed adeguata risposta da parte dei servizi aziendali coinvolti.